Questa è una grotta molto comoda anche per nascondersi, per esempio. Si sta al fresco, magari con del bambino, magari con del dolcetto e qui si aspetta. Sono entrati tutti, 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 venite più avanti, lasciatemi guardare bene. Oh ma quanta bella gente, quanti bandi uomini vedo, lei lì dietro ha le spalle ben larghe, anche lei laggiù in fondo vedo, potreste fare i gendarmi, sapete? Che avete da guardare? Una signorina, un'anziana nonnina non può farsi un goccetto di vino ogni tanto. Quindi siete dei gendarmi voi due? Sì, come sì? Siete sicuri? Davvero? Gendarmi ce ne altri? Pensateci bene prima di rispondere. Ma Ino, calmo, sono dei visitatori che sono venuti a conoscerti, metti via la pistola! Ah, potevate dirlo prima però, andiamo. Scusate, compari, ma la vita del brigante è così, non ci si può mai fidare di nessuno. Devo stare bene attento perché la testa mi resta attaccata al collo. Comunque, come avrete forse intuito, io sono Maino della Spinetta, re di Marengo e imperatore delle Alpi, terrore delle truppe napoleoniche, al vostro servizio. Eppure, fino a qualche anno fa, non ero altro che il semplice Giuseppe Maino. Giuseppe, beh, un ragazzo come tanti altri, un ragazzo che pensava solo a sposarsi. Sposarsi con la sua bella Cristina, sì. Me lo ricordo come se fosse ieri il giorno del matrimonio. 19 febbraio 1803. Cristina era così bella, le sue parenti l'avevano tutta alghindata, e suo zio, che era prete, aveva riempito la chiesa di fiori. Doveva essere un giorno magnifico, direte, il giorno più bello delle nostre vite. E invece no, e invece no, quei maledetti francesi. Eh, sono venuti a rovinarci la festa. Non gli bastava scavalcare le Alpi, venire qua con i loro cannoni, a conquistare le nostre terre, a devastare i campi, a gettare in rovina famiglie e famiglie di contadini. No, sono anche venuti qui a cambiarci le nostre tradizioni. Forse lo saprete, ma da queste parti di solito si sparavano dei colpi di fucile in aria durante un matrimonio, così, per festeggiare. Ma dimmi te se doveva arrivarmi un gendarme francese proprio il giorno del mio matrimonio a dirmi con la sua erra e moscia che per un ordino di Napoleone era vietato ai cittadini imbracciare le armi. Ma dimmi te se un nanetto malefico deve venire qui. Nessun turista francese oggi? E se anche fosse ormai le generazioni. Un nanetto malefico viene qui a cambiare le nostre tradizioni, a impedirmi di festeggiare come si è sempre festeggiato. Non ci ho visto più, mi sono messo a litigare con questo qua. Siamo venuti prima alle mani, poi alle armi e è finita che l'ho ammazzato. Eh, l'ho ammazzato, sì. Eh, gendarme. L'ho ammazzato, però avendo ammazzato un gendarme francese non potevo far altro che scappare. Io, i miei fratelli e qualche amico. Ci siamo dati alla macchia, cosa potevamo fare? Siamo diventati dei briganti. Eh, eravamo pochi, la banda era piccola. Ma ben presto, in pochi mesi, siamo diventati prima dieci, poi venti, cinquanta. Eh, in Piemonte ce n'è di gente che ce l'ha su con i francesi. E poi hanno cominciato ad arrivarne da tutta Italia. E oggi, Maino della Spinetta, ha ai suoi ordini ben duecento uomini a piedi e quaranta a cavallo. Pensate, gliene abbiamo fatta ai francesi, eh. Una volta, vi ricordo, abbiamo fermato la carrozza di un pezzo grosso, un generale. Un pezzo grosso, un generale. Il generale Milot, si chiamava. Ma noi li abbiamo mica ammazzati, eh. No, 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 no. Gli abbiamo portato via tutti i preziosi che avevano. Anelli, collane, gioielli, tutto. Tutto. A casa ho ancora la medaglia della legion d'onore di quel generale. Un'altra volta, invece, abbiamo assaltato il convoglio del Papa, pensate. Stava andando in Francia anche lui. Era di malumore perché stava andando a incoronare imperatore il nanetto malefico. Però la gente di questi posti ci vuole bene. Anche perché quando facciamo qualche rapina, metà del bottino viene sempre distribuita tra i contadini. Assolutamente. Loro in cambio ci proteggono, ci nascondono, come vedete qui. Eh, ma ce n'è tanti di banditi in Italia. Però i francesi credo ce l'abbiano particolarmente con me, perché io mi diverto a prenderli in giro. Forse, come avete capito, sono abbastanza bravo con i travestimenti. Anzi, modestamente, sono un manco dei travestimenti. E quindi spesso mi diverto a giocare loro qualche scherzetto. Una volta volevo andare a teatro e mi sono detto, adesso mi procuro un bel abito da ricco borghese. E così ho fatto e sono entrato all'Alessandrino senza grani. Un'altra volta, invece, avevo una divisa d'onore. Una divisa da gendarme francese. Francese, d'onore. E mi sono detto, perché non sfruttarla un po', perché non divertirmi. Sono andato in una locanda, la sono messa in dosso, sono andato in una locanda, dove sapevo che si ritrovavano spesso i gendarmi. Sono entrato, ho offerto da bere e ho detto, «Mis amici, ah, mis amici, quell'italiano, quel maino della spinetta, come mi sta qui, ah, quanto vorrei vederlo sulla forca un giorno!» E loro da quel momento hanno passato tutta la sera, tutta, a sparlare di me in una maniera, mi prendevano in giro, senza sapere che io ero proprio lì di fronte a loro. Allora, una certa ora, ho detto, «Me ne vado a letto, mis amici!» Sono uscito, sono andato fuori, dove, fuori dall'osteria, c'erano tutti i cavalli dei gendarmi e mi sono messo a tagliare tutti sotto pancia delle sede. Tranne una. Sono rientrato, mi sono tolto i baffoni finti e ho fatto, «Amici francesi, dimenticavo di presentarmi! Davanti a voi non c'è niente meno che maino della spinetta in persona!» E sono scappato, sono saltato sul cavallo buono e via al galoppo nel bosco. Loro hai voglia di saltare su quei cavalli. Tanti di quei sederi per terra dalle robe urlavano e gridavano, imprecavano in francese. Io li sentivo da lontano nel bosco. Che ridere, signori! Una vita meravigliosa quella del brigante, meravigliosa. La miglior vita che ci possa essere. Ma chi voglio prendere in giro? Una vitaccia del diavolo, ecco cos'è! Sempre braccato, col fiato sul collo, non si può stare tranquilli un attimo a versi un goccio di vino senza terrore che entri qualcuno e ti spari una pallotola in fronte. Che vitaccia, che vitaccia! Ma io dico, io volevo soltanto sposarmi. Eppure, che vi devo dire? Volevo sposarmi con la mia Cristina. Ci ho provato, ci ho provato tante volte a dirle «Cristina, lasciami, lasciami andare, lascia che io...» «Trovati un altro uomo!» Ma lei niente, si è sempre rifiutata. E voi credete che non lo sappia, eh? Qual è la fine che fanno tutti i briganti? Traditi da un compagno, ecco come finiscono. Giusto la settimana scorsa ho scoperto che il mio luogotenente, il Gabot, era una spia! Una spia era! L'ho dovuto ammazzare con queste mani, l'ho inchiodato a un albero con un cartello perché fosse di monito agli altri. Ci avevo cenato insieme la sera prima, per Dio, era anche un bravo uomo, sembrava simpatico. Ma che volete che vi dica? A me non si dispiace più tanto, più troppo, più... Beh, a me non dispiace molto per me, a me dispiace più che altro per gli altri. Anche perché secondo me se avessi fatto, se a quel tempo, quel sotto ufficiale si fosse fatto i fatti suoi, e non avesse cominciato a parlare di proibizioni da parte di Napoleone, e ci avesse lasciato sparare in pace, secondo me io sarei finito a fare questa vita comunque. Io sono una testa calda. Ma a me dispiace, appunto, per mia moglie, nostra figlia. Vi dicevo, ci ho provato a convincerla a lasciarmi, ma niente, lei si è sempre rifiutata, è costretta a vivere in una casetta sotto falso nome, protetta solo dal silenzio di amici e parenti. E io la vado a trovare, certo, di notte, per forza, ma ho il terrore che le guardie se la prendano anche con lei. Cristina, io ci ho provato, i miei luogotenenti mi dicono, se tu lasciassi andare quella donna, se ti lasciassi alle spalle questi sentimentalismi, riusciresti davvero a fare grandi cose, secondo loro. Potrei diventare davvero re di Marengo, imperatore delle Alpi. Potrei organizzare una vera resistenza a Napoleone. Ma come faccio? Come faccio a abbandonarla? Lei è l'unica che conosce il vero Giuseppe Marengo. Questo, che vedete, è il Marengo della Spiretta, un mago dei travestimenti. Ma senza Cristina, sotto a quella maschera, che cosa trovereste? Niente, ve lo dico io, non un volto umano, niente, pietra, roccia. Per questo che non posso abbandonarla. Comunque si è fatta una certa, io devo tornare alla mia banda, signore. Però grazie per essere passati, è stato un piacere. Addio. Però mi raccomando, la prossima volta che ci vedremo, tenete gli occhi aperti, perché può darsi che sarà sotto mentite spoglie. Sono un mago dei travestimenti.